Su disposizione della Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del titolare di un distributore di carburante del Cilento. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania al termine di una verifica fiscale condotta dai militari della locale tenenza, nel corso della quale sono state esaminate le fatture di acquisto con cui il commerciante aveva documentato le spese di gestione dell'impianto. Gli approfondimenti eseguiti hanno fatto emergere che una parte dei costi riportata in contabilità non era stata in realtà sostenuta e l'imprenditore aveva invece utilizzato delle fatture soggettivamente inesistenti, riuscendo così ad abbattere di oltre 400 mila euro l'ammontare dell'IVA dovuto al fisco per gli anni 2013-2015. Da qui la denuncia a questo ufficio è l'avvio del procedimento penale, nell'ambito del quale l'indagato è ora chiamato a rispondere dell'accusa di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti e di aver presentato delle dichiarazioni fiscali fraudolente. Le fiamme gialle valese hanno intanto provveduto in via cautelare a sequestrare tre terreni ed altrettanti fabbricati di proprietà del responsabile nei comuni di Casalvelino e Castelnuovo Cilento, nonché disponibilità finanziarie per circa 120 mila euro. Una volta confermata l'evasione fiscale sarà in questo modo garantito il versamento all'erario delle maggiori imposte accertate.